Sì, siamo andati a tutti! Perché qui è pesante, è esattamente alta. Specialmente se si servono dei pubblici piccolini, 5 kg va tutto il pietro. È piccolo lo spazio qui, forse no? Giorranna il cigliau, bambi, giorranna! Sono qui! E non bemmare 6 i cream . È piccolo l'accentesa, ma non inizia il ciò. Grazie a tutti da 이쪽! Ciao ragazzi! E v局ia 2, ripolo dia 2, ripoloında! ayudarPS per tutti! E tim processorsi e turoste. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti